Siamo con il professor Galimberti, grazie per essere con noi in questo tempo così vicino al Natale dove sappiamo che anche lei è molto impegnato e a me piace sempre in questo periodo poter offrire alle persone che stanno a casa un momento di riflessione un po' denso e quindi la scelta è ricaduta su di lei. I temi che potremmo affrontare con lei sono infiniti e tutti importanti. Mi piaceva collegarmi a un tema che lei sta valutando molto in questi anni che è quello dei giovani in cui sta scrivendo e dall'altra parte un anno fa si è chiuso in Vaticano il sinodo sui giovani che aveva come tema il discernimento, questa entità così strana, questa capacità di guardarsi dentro, di ascoltarsi, di capirsi che è un po' quel conoscete stesso di Platone alla fine, che anche qui viene individuato come veramente la chiave e poi per trovare se stessi e quindi stare un po' su questa terra in un certo modo. Lei come ha trovato se stesso? Perché si fa così fatica a far discernimento? Perché si sfugge così dal discernimento? Beh si fa fatica perché ormai ciascuno è diventato il peggior nemico di se stesso, nel senso che quello che la gente non capisce, che siamo entrati potentemente nell'età della tecnica, l'età della tecnica prevede che si proceda secondo la logica della tecnica che è la forma più alta di razionalità mai espressa dall'uomo, una razionalità molto semplice, che consiste nel raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi, questa è la tecnica, il tutto resto è tecnologie, queste macchine telefonine, frigoriferi, l'automobile, tecnologia che segue la logica della tecnica, ma è quella logica lì che dobbiamo tenere presente e allora cosa succede? Succede che gli uomini sono diventati dei funzionali di apparati tecnici e quindi devono seguire quella razionalità lì in maniera rigorosa, per la tecnica tutto ciò che fuoriesce da quel tipo di razionalità è un elemento di disturbo, solo che l'uomo è anche irrazionale, perché è irrazionale il dolore, è irrazionale l'amore, è irrazionale il sogno, l'ideazione, l'immaginazione, sono tutte forme irrazionali che vengono messe fuori gioco, vengono messe fuori gioco perché non sono funzionali all'efficienza e alla produttività con cui la tecnica organizza i comportamenti umani. Non lo so, per esempio la tecnica è già esondata anche nelle scuole, a Milano non si fanno più i temi scritti, che è l'unico modo con cui un soggetto emerge e si fa conoscere attraverso appunto la composizione del tema, al posto del tema che non si può valutare perché come fai a dare un voto alla soggettività e allora si fa la comprensione di un testo scritto, ti do un testo, ti segnalo dieci parole, devi darmi dieci definizioni, ogni definizione che sbaglio è un voto in meno, anche qui siamo passati dalla conoscenza del soggetto che prevedeva la sua educazione alla prestazione, questa è già tecnica, tecnica in base alle scuole non tanto perché ci ha messo le lavagne digitali e i registri elettronici, ma perché ha spostato l'attenzione dall'educazione alla prestazione e questo è un fatto universale, abbiamo assunto questo modello anglicano, abbiamo rinunciato la nostra tradizione umanistica e dopo si vede che cosa sono i giovani, persone che non sanno niente di se stessi, che per giunta non erano neanche un futuro e quando il futuro non è prevedibile non scatta la motivazione, Nietzsche aveva definito quest'epoca annunciandola, poi aveva aggiunto mi capirete tra 50 anni, aveva definito nichilismo, aveva definito manca lo scopo, manca la risposta al perché, perché mi devo impegnare, perché mi devo dare da fare e al limite perché devo stare al mondo e sono tanti i giovani che si suicidano all'anno, siamo sui 300 ai 400 ogni anno e allora che cosa succede? Discernimento nel senso di conosci te stesso, nel senso di acquisisci delle forme di capacità di scegliere, tutto questo sparisce dalla circolazione e se non lo vedi che cosa fai? Stai male, allora vivi 24 ore su 24 in presa diretta con una società che ti invita al piacere, divertiti, una famiglia che ti invita senza neanche crederci troppo al dovere e le due cose confliggono, mentre quando eravamo poveri la famiglia diceva sacrificati, la società diceva sacrificati, impensi i dati da fare, è cambiato radicalmente il mondo e i giovani si trovano in questa situazione, non riescono neanche più a parlare con i loro genitori perché i genitori sono vissuti in un mondo reale, i giovani vivono in un mondo virtuale e tra i due mondi non c'è comunicazione assolutamente, i genitori sono vissuti nel tempo, i giovani vivono nella velocizzazione del tempo, quindi non hanno più lo spazio della riflessione, ma semplicemente quello della risposta emotiva immediata, like non like, sono le loro risposte, con i genitori non parlano più, anche per colpo dei genitori naturalmente, che lo spazio del linguaggio genitoriale va da 0 a 12 anni, poi dopo basta perché i ragazzi passano dall'amore verticale nei confronti dei genitori a quello orizzontale con i loro amici, quindi dopo la parola genitoriale diventa inefficace, dopo funziona l'esempio e non è che in famiglia siano dei grandi e belli esempi, in ordine dei comportamenti, ogni tanto i ragazzi aprono una finestra nei confronti dei loro genitori, tante volte gli capita di parlare con loro, qui i genitori dovrebbero stare molto attenti nell'ascoltarli, non nella forma ti ascolto però ti dico, però dopo ti dico, ma ti ascolto perché sono curioso del tuo mondo che non conosco, allora se i ragazzi percepiscono questa curiosità degli adulti nei confronti del loro mondo, ricominciano a parlare, comunque la situazione dei ragazzi è veramente pesante, tragica, è inutile che ce la raccontiamo. Però appunto professore, questa parte irrazionale c'è, quella che si fa così fatica a sondare, a capire e per la quale pare che non ci sia spazio e quindi c'è questo, un altro termine che lei utilizza è quello dell'analfabetismo emotivo, no? Lo diceva papà Francesco una volta che abbiamo avuto un dialogo di un decino di minuti insieme, c'era stato il Padre Nostro e mi è stato segnato un frammento del Padre Nostro che era non ci indurre in tentazione e dopo ci siamo trovati tra i vari commentatori del Padre Nostro davanti a lui e abbiamo parlato ciascuno singolarmente con lui. Io lo dicevo facendogli presento una cosa, guarda che la Chiesa ha perso il senso del sacro, perché siccome la fede è irrazionale, perché non è ragionevole che una Vergine metta al mondo un figlio, non è un prodotto della ragione che un uomo risorga, siccome la fede è pre-razionale o irrazionale come vogliamo e allora l'irrazionale tu lo muovi attraverso la ritualità, nelle nostre Chiese non c'è più il rito, non c'è più il canto, non c'è più la lingua altra rispetto alla lingua quotidiana che usiamo, io non sono un seguaccio di Lefebvre, anzi lo detesto, però non c'è nessun dubbio che il prete non può celebrare rivolto a un popolo come se le cose si risolvesse tra noi due, ma per carità, Dio è là nello sfondo dell'abside della Chiesa e tu volgendo le spalle ti rivolgi dopo il popolo con un bel dominus vobiscum, magari in latino, meglio ancora in greco, meglio ancora in aramaico, perché il sacro non ha mai parlato la lingua degli umani, ecco, e allora oggi andiamo in chiesa e sentiamo delle sorte di lamenti in generale, delle litanie noiosissime, preghiamo, preghiamo, con un prete da solo che fa il celebrante il chirichetto, si arrangia tutto da solo, lo fa la messa da solo, in pratica, e in un contesto del genere cosa succede? I funerali, i funerali, una volta si cantava il Die Sire Die Silla quando io ero piccolo, suonavo anche l'organo io, si cantava in Paradiso del Ducante Angelesso, non si canta più niente, non c'è neanche il conforto di fronte alla morte della comunità, arriva alla macchina, prende la barra, porta al cimitero, chi si è visto si è visto, ma ci sono delle situazioni di limiti che il singolo non ce la fa a reggere da sole, bene, perché abbiamo perso la comunità, perché abbiamo perso il canto, perché non cantiamo più il canto gregoriano, perché non diciamo più le messe in terza, perché non cantiamo un palestrina o un requiem di Mozart, la gente si raccoglierebbe in questa direzione, attiverebbe la sua dimensione non razionale, perché la fede troverebbe il suo alimento, queste cose non le dico solo io, c'è un teologo a Milano che si chiama Angelo Sequeri, che queste cose le dice alla grande, però mi pare che sia seguito in maniera particolare. Ma proprio perché sarebbero così importanti, e lo sono stati il linguaggio, la liturgia, la simbologia, lo spazio perché la comunità si raccoglie, questo vale in generale, perché siamo veramente una società estremamente frazionata, perché non si riesce più, se poi dentro nell'uomo questa pulsione c'è? Ma siamo una società che non c'è più comunità innanzitutto perché la gente non si rende conto di cosa ha determinato l'informatica, una volta la gente si incontrava, si guardava in faccia, i nostri nonni andavano a lotteria, non so dove andavano al bar e si guardavano in faccia, giocavano a carta, parlavano. Adesso noi parliamo con un monitor, parliamo con un video, siamo tutto il giorno lì davanti a un computer o davanti a un telefonino e quindi abbiamo perso proprio la macchina della comunicazione che è la frontalità, persino il sesso, non credete che i giovani, io faccio anche lo psicoanalista, che facciano così tanto all'amore, no, c'è il porno in video, forse è meglio, non c'è l'impegno dell'altro, non c'è l'avere a che fare con l'altro per davvero, che ti impegna naturalmente e ti impegna perché l'altro è una persona, l'altro ti guarda negli occhi, capito? Abbiamo perso proprio la forma della comunicazione abituale degli umani, tenendo conto poi che quando uno soffre la prima cosa che fa è andare a raccontare all'altro il suo dolore, oggi è meglio che non lo faccia perché dopo che l'ha raccontato lo evitano tutti e questo perché? Perché noi latini abbiamo perso il concetto di persone, i cattolici parlano, io non sono cristiano perché sono greco, questo lo si sa, greco vuol dire prendere su serio la morte, hanno sviluppato un concetto di persona che vorrà dire maschere come si è soliti dire, ma innanzitutto l'etimologia è per sé unum, noi abbiamo fondato l'individualismo, dopo è inutile che dopo ci lamentiamo che il mondo è egoista, narcisista, individualista, sono tutti cascami del primato dell'individuo, i greci mettevano come loro primato la città, Aristotele dice se uno entra in una comunità e pensa di poter fare a meno degli altri o è bestia o è Dio e a proposito di Dio dice che forse non è felice perché è monakos, perché è solo, ecco i greci sai come la chiamano la persona? La chiamano prosopos, prosopsis, colui che mi sta davanti agli occhi, opsis, ottico, tutte queste cose, orao, opsoma, è il non vedere, il prossimo è quello che io vedo davanti a me e allora hai capito che cambia il mondo? Non sono io, non sono io, la persona non sono io, la persona è quella che mi sta davanti, ecco noi non abbiamo più, non vediamo più le persone davanti, oppure le relazioni sono relazioni sostanzialmente di interessi reciproci, di vantaggi personali, ma uno sguardo sull'altro, anche la parola prossimo, come dice giustamente Enzo Bianchi in un suo scritto, il prossimo è il mio farmi prossimo all'altro, non è che è il fatto solo che lì è perciò stesso prossimo, è una mia azione far diventare prossimo all'altro approssimandomi, è questa cosa la chiesa la persa. Come diceva lei, questo stare di fronte all'altro, poi anche l'altro mi rimanda inevitabilmente qualcosa di me, quindi forse questo è un altro motivo per il quale un po' si sfugge a questo contatto, perché quando si entra poi in relazione con un'altra persona inevitabilmente si è costretti a entrare in relazione un po' anche con se stessi o non in qualche modo. Ma l'altro mi impegna, l'altro mi sollecita, l'altro mi muove e quindi stare di fronte all'altro è la condizione del fare comunità, del fare… oggi questi processi sono assolutamente persi, persi. Sempre al Papa a un certo punto gli ho detto, senta, lei adesso ha 80 anni, l'incontro è avvenuto al 17, adesso ne avrà 82, 83, se non lo so neanche, stia attento perché dorme poco, dorme 4-5 ore per notte sto povero uomo, ha un polmone solo, mangia male, si mangia male, si dopo le dirò perché mangia male. E poi? E poi cosa succede? Ecco, lei deve sapere che la cifra del suo pontificato, forse non lo sa, questo potevo evitare di dirglielo, ma la cifra del suo pontificato consiste che lei ha messo davanti le persone ai principi, se lei muore arriva senz'altro un altro che mette i principi davanti alle persone, come era prima di lei, come sarà dopo di lei, quindi deve trattarsi bene perché altrimenti dopo ci capita quello dei principi. E lui alla fine mi ha abbracciato e mi ha detto, sì effetti Dio salva le persone, non i principi. Ed effettivamente, ma la gente ci crede che le persone vengono prima dei principi? Magari ci crede ma è più facile andare davanti ai principi. Come? Forse è più facile mettere davanti i principi perché dietro... Ma certo, dopo procedi per deduzione. Più comodo. Per deduzione, ma già Aristotele diceva che non possiamo costruire una morale deducendola da principi, perché non siamo in matematica e siccome i comportamenti umani sono variabili, questo diceva Aristotele, allora bisogna procedere non con la noisis, con la ragione, con la deducibilità, ma con la fronisis, cioè con il buonsenso che tiene insieme le persone cercando il mi normale, visto che il bene non riusciamo a realizzarlo nella sua purezza pienezza. Lei dice che non cresciamo perché qualcosa ci spinge, ma perché qualcosa ci attrae. Lei da cosa era attratto? Che cosa l'ha fatta crescere? Sì, queste cose sono cose belle che dico, ma che cosa mi attrae lo so dopo, lo si sa dopo. E che cosa l'ha attratta da giovane? Cosa l'ha fatta crescere? Cosa l'ha fatta diventare un uomo? Allora, nel mio caso sono state quattro idee che mi sono furlato in testa tra i 20 e i 30 anni e l'idea più potente era che questa civiltà era ormai alla sua fine. E allora ho scritto un libro, Il tramonto dell'Occidente. Avevo 26 anni quando l'ho scritto e mi pare che si sta realizzando abbastanza bene questo tramonto, perché è una civiltà ormai che non ha neppure più senso, ha perso l'ottimismo, perché l'Occidente è stato alimentato dall'ottimismo cristiano. Il cristianesimo, questo va riconosciuto, ha immesso nell'Occidente una forma di ottimismo passesca. E non è un caso che l'Occidente è diventato la prima civiltà del mondo e noi ci nascondiamo per ipocrita umiltà. Lo è diventato perché grazie all'ottimismo occidentale, all'ottimismo cristiano. Perché il cristianesimo ha diviso il tempo in tre parti, il passato, il presente e il futuro. Il futuro è sempre positivo, c'è la salvezza, il passato, il peccato originale, il presente e la redenzione. La scienza che la gente contrapone alla religione pensa la stessa maniera. Il passato ignorante, il presente e ricerca, il futuro e il progresso. Anche Marx, il passato e ingiustizia sociale, presente per esplodere le contraddizioni del capitalismo. Il futuro, giustizia sulla terra. Persino Freud, che scrive un libro contro la religione, intitolato L'avvenire di un'illusione, pensa che la necrosi e il trauma si informa nel passato e presenta analisi, futuro e guarigione. Il futuro è sempre positivo nella mentalità occidentale. Questo ha costituito una forza propulsiva enorme rispetto all'orientale, che vive in una sorta di fatalismo. Solo che, come dice giustamente Nietzsche, Dio è morto. Dio è morto non vuol dire Dio esiste o Dio non esiste. Non è interessante per Nietzsche queste discussioni. Dio è morto vuol dire che una volta era vivo, perché muoiono solo quelli che erano vivi. E allora non so, se guardiamo nel Medioevo, dove l'iconografia, l'arte, arte sacra, dove la letteratura parla di inferno, purgatore e paradiso, dove persino la donna e donna, angelo, Dio c'è. Perché se io tolgo la parola Dio del Medioevo non capisco più niente di quell'epoca. Se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo lo capisco ancora, lo capisco senz'altro ancora. Non lo capirei più se togliessi la parola denaro, che è diventato il generatore simbolico di tutti i valori, o la parola tecnica. E allora Dio è morto, non fa più mondo. Il mondo non accade più come Dio vuole. È chiaro che la morte di Dio porta con sé la morte anche della vita ultraterrena, porta con sé la morte della speranza, che diventa una parola passiva. Cosa vuol dire sperare, augurarsi, auspicare? Vuol dire sto fermo e aspetto che il futuro porti il rimedio. No, i giovani hanno capito che non c'è rimedio. È per quello che sono nichilisti. Poi all'interno dei nichilisti passivi che si rassegono ci sono nichilisti attivi che ci provano. E ci provano però riconoscendo che sono in un'epoca nichilista, non rimuovendo il fenomeno. Capito? E allora questa è un po' la situazione. Quindi l'Occidente se ne va. È un Occidente che riempie il mondo dei rifiuti. C'è Gunther Anders che scrive che quando si tratta il mondo come un mondo da buttare via, finiremo per trattare l'umanità come un'umanità da buttare via. E ci siamo già arrivati. Siamo già arrivati a buttare via questa umanità. Visto il modo con cui trattiamo gli immigrati, è un modo di buttare via l'umanità. Canto diceva, l'uomo va trattato sempre come un fine, mai come un mezzo. Non so, quando Salvini ha tenuto su un'imbarcazione quella gente per giorni e giorni, con due servizi, senza cibo, poca acqua, eccetera. Io con Salvini non ce l'ho, ma ce l'ho con gli italiani che non si sono indignati. E se tu abbassi oltre un certo livello l'assorto del rispetto umano, è allora quel punto terribile, come diceva Heidegger, il terribile è già accaduto. Che cosa ti ferma? Una volta che hai abbassato la soglia della tua indignazione, più niente. A proposito del cosa ti ferma, quando lei dice io sono greco e per il greco è importante il senso del limite. Il senso del limite è quello che ti fa anche capire il tuo scopo, chi sei e che è naturalmente inevitabile quando riconosci il tuo limite, riconosci anche quello degli altri, quindi dove c'è il punto di incontro. Questo senso del limite è un'altra cosa che abbiamo perso? I greci credono nella morte, non mettono l'uomo al vertice del creato come hanno fatto i cristiani. Credono che gli umani, al pari delle piante degli animali, nascono, crescano, generano e muoiono. Il soggetto è la natura, non è l'uomo. Allora se tu prendi sul serio la morte, come dicono loro, nasce un'etica, l'etica del limite. L'etica del limite consiste nel fatto che non devi oltrepassare il tuo limite e dicono quando la vita ti è favorevole espandila più che puoi e quando sopraggiunge il dolore, come dicono bene gli stoici, substine e abstine, reggilo ed evita di metterlo in scena. Noi non abbiamo ancora imparato questo, perché mettiamo in scena il dolore, era catastrofe. Avevano il senso del limite nella costruzione della felicità. La felicità allora la chiamavano eudaimonia, eu vuol dire buona, buona riuscita del tuo demone. Il tuo demone che cos'è? Quello che tu sei, la vocazione che hai, l'attitudine che ti caratterizza, la virtù che diventa ciò per cui sei nato, realizzalo. Allora prima devi conoscerlo, devi conoscerti, sennò segui dei modelli che vedi in giro e se non ti conosci non è che realizzi te stesso. Prima lo riconosci, quindi gnotis auton, conosci te stesso e poi per realizzarlo devi stare attento al tuo limite, non oltrepassare il tuo limite. Realizzalo katametron, secondo misura, se no commetti i brisk, che è l'unico peccato per i greci, quello è oltrepassare il proprio limite. Questi greci, noi quando promettono porta la tecnica agli uomini, i greci opportunamente lo incatenano, noi invece li abbiamo scatenato e adesso la nostra capacità di fare, tecnicamente, oltrepassa di gran lunga la nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare. Noi oggi ci stiamo muovendo a mosca cieca, questo è ignoranza del limite. Perché noi non possiamo di ogni epoca salvare qualcosa e portarcela avanti? Perché sembra che i greci erano così, ci hanno lasciato questo, poi arriva il cristianesimo, via, tutto nuovo. Adesso da più parti si invoca un nuovo umanesimo, Enzo Bianchi stesso tante volte l'ha detto, penso la canzone di Gaber quasi fosse un testamento, se ci fosse un uomo, perché comunque questa pulsione, questo desiderio, questa forza dentro c'è, che adesso cozza con quello che siamo, con questa società in cui Dio è morto. Ma è possibile che non si riesca a prendere il positivo che ciascuna epoca ci ha lasciato e farne un uomo e una società adatti al mondo di oggi? Non è possibile perché ciascuno di noi ha un'identità, ma questa identità noi non ce l'abbiamo mica per natura, ce l'abbiamo come effetto da riconoscimento degli altri, l'identità è un prodotto da riconoscimento, quindi sono gli altri che danno a meglio la mia identità, se è un bambino la mamma gli dice che è bravo e poi glielo dice la maestra cresce con un'identità positiva, la mamma gli dice un cretino, glielo dice anche la maestra cresce con un'identità negativa, quindi l'identità è un dono sociale. Chi te la dà oggi l'identità? Te la dà la tecnica, gli apparati, ti dà l'identità, il ruolo, la carta d'identità, no il biglietto d'avviso ti dà l'identità, quello che tu fai dal punto di vista lavorativo ti dà l'identità, il resto non sai neanche chi sei, il ruolo è il rotolo, il ruolo viene da rotulum, era il rotolo che gli attori antichi leggevano quando andavano in scena, tu leggi il rotolo dell'apparato di appartenenza, di cui tu devi eseguire le azioni descritte e prescritte dall'apparato, punto a capo, la tua responsabilità è solo in ordine superiori, mai a quelle che è di fronte a te. Non trovi più uomini, ma questo lo diceva già Marx, io giro per Berlino e non trovo più un uomo, vedo un generale, vedo un operaio, vedo un impiegato, vedo un funzionario, non vedo più un uomo, ed è vero che non c'è più, è inutile che ci continuiamo a incantare di fronte all'uomo, dove è più sto uomo? Però ogni epoca ha avuto alla fine il suo modo di venirne fuori, come lei dice, queste persone stufe di certo linguaggio sono scese in piazza, cioè alla fine da qualche parte sarebbe bello, ma non ci credo, anche perché non possiamo fare un riferimento alle epoche storiche passate, perché quell'epoca lì era un'epoca umanistica, adesso l'umanesimo non c'è più, è un secolo che i filosofi dicono che l'uomo è finito, è cominciato Spengler, il tramonto dell'Occidente, Heidegger, l'umanesimo è finito, Jaspers, quando ha scritto quel libro sulla bomba atomica, Gunther Anders, che ha scritto quel bellissimo libro, l'uomo è antiquato, Severino dice le stesse cose, io le ho dette nel 99 in quel libro sulla tecnica, la cosa più tremenda è non voler vedere la realtà, la gente pur di non vedere la realtà dice che Alimberti è un nichilista, no il nichilismo è qui sotto i tuoi occhi il nichilismo, guardalo e Heidegger giustamente, commentando le pagine sul nichilismo di Nietzsche, dice guardate che l'ospite inquietante, come Nietzsche chiamava nichilismo, è inutile metterlo alla porta, perché già da tempo si aggira nella casa, bisogna guardarlo bene in faccia, perché solo se lo guardi bene in faccia puoi prendere le contromisure. E quindi lei si deve guardare avanti e fare un augurio a se stesso e agli giovani, ai ragazzi, a suo nipote? C'è l'amore, c'è l'amore, l'amore è proprio quello vero, anche perché l'amore è l'unica macchina che tiene in piedi la vita.